Mi chiamo Claudia, ho 27 anni e sono di Roma. Il mio talento è cucinare, vengo dal Grimorice da 10 anni. La mia passione per la cucina nasce sette anni fa circa, oltre a atto ispirazioni sia da mia madre che da mia nonna. Una persona che stimo molto nel mio campo è Alex Atara, è uno chef brasiliano, è una persona molto semplice e molto creativa e riesce a trasmettere nei suoi piatti proprio questo. Mi piace mettermi alla prova e creare, darmi la possibilità e darmi il modo di creare dei piatti e sperimentare appunto dei sapori. Non l'ho imparata in Italia, non l'ho imparata da nessuna parte. Mi piace comunque nei miei piatti utilizzare materie di qualità e soprattutto di stagione, stagionali. Mi prendo un progetto che si chiama Casa e Bottega per portare i miei piatti a casa e nasce l'esigenza anche del proprietario di casa di potersi rilassare e potersi magari la serata con dei parenti o degli amici. È un lavoro dove puoi continuare a imparare, penso, sempre. Vi presento delle chicche al mandaino. Grazie Clevoray!